Sono molto felice e contento di poter partecipare a questa iniziativa che vede finalmente raccolte tutte le associazioni che rappresentano un po' l'educazione fisica in generale e soprattutto sono felice che Edumoto abbia un ruolo fondamentale in questa azione e penso di aver sostenuto sin dall'inizio anche per la simpatia che hanno sempre dimostrato i loro concorrenti e i loro associati. Mi auguro che si arrivi veramente a un risultato concreto e finalmente si possa raggiungere quei risultati che da tanto auspichiamo e attesi e che l'educazione fisica riacquisti il suo ruolo pari a tante materie che anche oggi culturalmente non la rappresentano in maniera efficace e soprattutto che hanno a questa disciplina il senso vero di appartenenza all'interno della scuola italiana. Grazie. Va bene?